Delle varie deleghe al vice sindaco Roberti sicuramente due che erano quelle, bene o male, a cui Roberti per un anno è passato, ci sono poi le scatole, cioè famiglia e sicurezza. Sì, sono due deleghe importanti, sulla sicurezza la Lega si è sempre battuta e quindi è importante per noi che venga data non solo ad un assessore della Lega ma anche al vice sindaco. E quella sulla famiglia è un'altra delega che abbiamo chiesto in campagna elettorale che serve a dare un messaggio forte innanzitutto, il messaggio è quello che la famiglia deve tornare centrale per l'amministrazione comunale. Sui grandi eventi che idea hai? Perché i grandi eventi come al solito è tutto e niente. I grandi eventi sono da partire dalle grandi manifestazioni sportive di Trieste, quindi dalla Barcolana alla Bavisella fino ai concerti. In programma ne abbiamo alcuni importanti già nei prossimi mesi, penso a luglio il concerto di Micca, poi ci sarà il concerto degli Iron Maidem, quindi già su questo dovremo cominciare a lavorare per l'immediato dalla prossima settimana e poi cominciare a studiare le strategie per i prossimi eventi del prossimo anno. Ultima grande rogna, la caserma Bellini, la caserma della Polizia Locale che ormai sta facendo muffanzi, sta crollando a pezzi. In questi giorni, anzi a dir la verità, già questo pomeriggio vedrò il comandante della Polizia Locale a Batte, questo sarà uno dei temi da affrontare. Voglio capire quando sarà possibile utilizzare la caserma Bellino perché chiaramente una volta entrati in possesso di quella caserma si potrà razionalizzare il servizio, riorganizzarlo e renderlo ancora più efficiente.